Buongiorno a tutti e benvenuti da 4WD Italia, qui con noi abbiamo un Wrangler JK di provenienza di portata dalla Germania, è un 3 e 6, motore benzina, 6 cilindri in linea, alla quale sono state portate non da noi, noi abbiamo risistemato alcune cose perché è arrivata con una configurazione un po' approssimativa, questa vettura monta delle 285,50 sul cerchio da 20 che sono un po' la tendenza del momento, non sono la mia passione, sinceramente preferisco più gomma e meno cerchio però è questione di gusti, ha un paro ultimi di uti, è stato installato un assetto perché quando c'è arrivata aveva pneumatici maggiorati ma non era stato fatto nulla sull'assetto quindi era abbastanza inguardabile e poi abbiamo fatto alcuni interventi di manutenzione anche se la vettura sostanzialmente era abbastanza in ordine, le vetture che arrivano dalla Germania hanno un grossissimo problema che è comune a tutte, soprattutto anche quelle un po' più datate, il fatto che in Germania buttano quintali di sale sulle strade e quindi telaio, ponti, tutta la parte che si arrugginisce più facilmente di solito ne risente tantissimo, se per caso anche tu hai una vettura che arriva dalla Germania o comunque con questo tipo di problema noi facciamo un trattamento antiruggine per il telaio, per i ponti e per quant'altro in maniera tale da bloccarla e riverniciamo ponti, quindi intanto con la vernice Raptor è un bellissimo lavoro. Per qualsiasi intervento di manutenzione e aggiustamento di cose magari fatte maluccio da altri posso darvi molti consigli, mi trovate più facilmente via WhatsApp, il mio recapito è 338-73-12725. Alla prossima!